Buongiorno, siamo sullo stand di Original Parquet, un'azienda italiana che espone per la prima volta in Germania. Abbiamo portato un po' del nostro Made in Italy oltre confine con alcune cose particolari della nostra gamba. Le spine, che hanno avuto un grande riscontro, un grande successo durante questa fiera, e la tecnologia del termotrattato, un materiale che oltre alle finiture di superficie possiede anche delle caratteristiche tecniche particolari che possono essere declinate sia in formati e modalità molto classiche piuttosto che in una finitura più contemporanea, chiaramente destinata a progetti di architettura in un tema un po' più moderno. Queste naturalmente sono soltanto due delle tante proposte che Original Parquet ha portato in Germania e che comunque potete ritrovare in tutto il mondo.